Ciao a tutti! Ciao Giulia, come stai? È passato Halloween? Sì, è passato con Priscilla, la mia cuginetta e con Emanuele, che abbiamo preso il McDonald's. Ah, avete preso il McDonald's, ma dolcetto scherzetto lo hai fatto? Eh, sì, sulla castiera. Alla castiera? Ma però abbiamo preso tanti dolcetti e io ho fatto dolcetto scherzetto, ma però mi sono rimasti quelli di Halloween. Eh, lo so, però la mamma ti fa ancora oggi, che è l'ultimo giorno di Halloween, anzi oggi è ogni santi, è finito Halloween ieri, ti fa ancora dolcetto scherzetto. Lo sai perché? No. No, perché mamma ha messo qui cinque casette dress me up. Queste casette, ascoltami bene Giulia, tre casette, quindi quant'è tre? Così? Che c'è ancora i miei anni. Che sono ancora i tuoi anni. Tre casette sono vuote, perché sono delle casette che già abbiamo aperto. Invece, due di queste casette sono nuove, significa che possiamo scartare due dress me up nuove, sei contenta? Sì. Però, però, aspetta, perché tu ne puoi scegliere, guardami un po', solo tre. Quindi, ne sceglierai tre e aprirai solo tre di queste qui. E se riesci a trovare quelle piene, apri le dress me up nuove. Aspetta, 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 ti dice mamma come devi fare. Allora, fai così, senza toccarle, metti le zucchette davanti a ogni casetta che vuoi aprire. Scegli quale casette vuoi aprire, tre ne puoi aprire. Questa, questa e questa. Giusto? Sì. Allora, queste le possiamo togliere. Giulia, queste non le apre. No, perché quelle scartiamo domani. E scartiamo domani e non lo sappiamo se sono piene o vuote quelle. Dobbiamo vedere se ha indovinato a prendere quelle piene. Allora, adesso Giulia, scegli la prima casetta e vediamo se è piena o vuota. Com'è? E' piena. E' piena, ma che fortuna. Che fortuna, vediamo un po' se veramente c'è. Poppy, Poppy la polipetta. Sì, Poppy la polipetta, come il tempinello, quello che vanno sotto l'acqua. Eh sì, abbiamo trovato Poppy, la nostra dress me up Poppy. Allora, questo è lo sfondo. Adesso facciamo vedere un po' gli adesivi di Poppy, che è una bella polipetta. No, fammi rivedere un attimino e poi te li do. Eccoli qui. Poi c'è lo specchietto. Eccolo qui. Su specchietto e su biberon. No, intanto metto gli sticker stati qui. Vuoi mettere gli sticker sulla casetta? Ti doi, mamma. Va bene. Allora, intanto io inizio ad aprire gli accessori. Vediamo un po'. Sei stata fortunata, hai trovato Poppy. Ecco qui, la nostra Poppy. È proprio una polipetta. Ecco qui, c'è i tentacolini. È carina. Guardate, anche sulle braccine, c'è i pallini dei tentacoli. È proprio una bella polipetta. E c'è questo vestitino. Adesso dobbiamo andare a vedere i suoi accessori. Allora, Giulia ha messo tutti gli adesivi sulla casetta. Eccola qui, la casetta di Poppy. E adesso andiamo a scoprire i suoi accessori. Vediamo un po'. Ecco il suo biberon. Allora, giustamente Giulia dice che c'è il biberon. E poi, apri un pochino qui. Allora, abbiamo la gocciolina, quindi... Niente accessorio? Un oro. Un oro, va bene. Poi abbiamo il ciuccetto. Di che colore è il ciuccetto? Blu con un fiocchetto. Celeste col fiocchetto. Eccolo qui. Poi abbiamo le scarpette. Di che colore sono? Viola. Viola. Come i piedini viola. Come i piedini che sono viola. Allora, la polipetta Poppy la troviamo anche nelle pink. Quindi può darsi che se scartiamo prossimamente qualche altra Cry Babies Pink Edition, potremmo trovare anche Poppy versione pink, tutta rosa. Anche se è già abbastanza rosa, anzi, è viola direi. Guardate che belli stivaletti. Belli, belli. E vediamo adesso il vestitino. Com'è il vestitino della polipetta? Bello. Uh, vediamo. Ma ha le maniche corte. Ha le maniche corte? Perché lei è una polipetta, sta al mare e fa caldo. Non è un vestitino invernale, è un vestitino estivo. Ecco qui, abbiamo messo il vestitino. È un vestitino da marinaretta proprio. Sì. Che carina. Ecco qui, abbiamo trovato Poppy. Abbiamo anche messo l'adesivo allo specchietto e abbiamo appeso la gruccia. Quindi, Poppy, eccola qui. Eh, aspetta, aspetta adesso, Giulia. Aspetta un po'. Lo so che sei curiosa. Adesso quale scegli di queste due? Quella. Apri un po'. Com'è? Ma proprio sei fortunatissima. È piena anche questa. Chi abbiamo trovato? Il rinoceronte. Sei stata proprio velocissima ad aprire. Ma non ho capito i capelli glitter. C'hai capelli glitter. Vediamo un po'. Oh, ciao rinocerontina. Che bella che sei. È vero, hai capelli glitter. Giulia, ma le altre Dress Me Up hanno i capelli glitter. A me sembra di no. Sì, perché ognuno dei baby sta facendo i capelli glitter. No, non tutte. Poppy non ce l'ha glitter. Guarda, l'abbiamo appena aperta, vedi. Sì, ma lei... Lei sì. Sì, lei sì perché... La rinoceronte. Ma ragazzi, è davvero carina. Sì, perché lei è invernale. Vedete com'è? Perché lei è invernale. Anche dei begli occhi. Veramente bella, è vero? Ma vediamo la checklist che prima non l'abbiamo vista. Allora, ecco la nostra checklist. E vediamo come si chiama. Tu lo sai, si chiama Sasha. Eccola qui. E la polipa? La polipetta, l'ho detto prima, si chiama Poppy. Eccola qui. E l'italente? Sasha. Allora, vediamo la checklist. Quali abbiamo noi? Lady? Poppy? Poppy? Questa è Kanga e non ce l'abbiamo. Dreamy? No. No. Billy? Sì. Connie? Sì. Narvi? Sì. La cagnolina? No. Nessie? Sì. Sì. Zena la zebra? No. No? Sasha l'abbiamo trovata adesso? Sì. E Desi? Sì. Sì. E la rara Sydney? Sì. Quindi, vediamo un po'. Ci mancano Kanga, Dreamy, Kira, e sono tre, e Zena. Quattro ce ne mancano. Allora, adesso andiamo a vedere gli adesivi di Sasha, che è proprio una piccola rinoceronte. Che carina, è una sarta, sembra. Ha le forbici lì sopra. Sì, perché? Questa è la sua casetta. Il suo armadio, anzi, perché io le chiamo casette, ma in realtà queste delle Dress Me Up sono degli armadi, delle ante dell'armadio con i cassettini. Adesso andiamo a scoprire cosa uscirà. Allora, apriamo gli accessori. Giulia sta mettendo gli adesivi. Ecco. Intanto, iniziamo a sbirciare quali accessori ci sono per la nostra Sasha. Vediamo un po'. Oh, abbiamo ancora la gocciolina, Giulia. Uffa, ma apriamo che quella casetta non c'è la gocciolina. Dobbiamo vedere se quella casetta è piena o vuota. Allora, abbiamo il ciuccio, che il ciuccio di Sasha è giallo, perché anche lo specchio è giallo. Quindi vi ricordo questa cosa, che avevo già detto in altri video, che gli accessori sono tutti abbinati al colore delle maniglie della nostra casetta armadio. Infatti, se andiamo a rivedere Poppy, scusami Poppy, sei anche caduta. Come vedete, i ciuccetti che fanno da maniglia sono celesti. Invece, la casetta di Sasha ha le maniglie con i ciuccetti gialli. Quindi abbiamo lo specchio. Sì, perché le maniglie sono diverse da gli altri. Sono diverse, certo. E abbiamo quindi lo specchio di Sasha, che è giallo. Eccolo qui. Quindi il ciuccetto giallo lo abbiamo visto. Adesso andiamo a vedere le scarpette, che sono viola. Mamma, ma guarda che c'è un sui. Vi è attaccato un adesivo addosso. Guarda che c'è pesicoso. Guarda che belle le scarpette di Sasha. Hanno il fiocchetto e sono tutte tipo con un merletto intorno. Sono davvero carine. Allora, la gruccetta gialla, l'altra scarpetta e adesso andiamo a vedere il vestitino. Quindi vi ricordo, le Dress Me Up hanno il ciuccio, le scarpette, il vestito e poi possono avere l'accessorio, diciamo, raro o particolare. Va bene, andiamo a vedere adesso il vestitino di Sasha. Ma è carinissimo! E' giallo con i cuoricini, rosa. Adesso Giulia lo va a mettere, vero? Sì, ma tu metti quei titti che è stata tenata tu. Mi hai lasciato gli stickers da mettere, vediamo un po'. Grazie, ma ha già riempito tutta la casetta di Sasha. La devi metterli qui. Va bene, lo mettiamo anche gli stickers. Intanto tu vestila. Vediamo un po' com'è con la sua giacchetta. No, mi sembra che l'hai messa male perché il fiocchetto va messo davanti. Guarda, quindi il fiocchetto va davanti. Allora, infila, no, questo qui, no, l'altro, questo qui, bravissima. Infila una manica qui. Vediamo un po' com'è Sasha col suo vestitino. Ma lo deve ancora vestiti. Ah, scusa, le scarpette. Ok, mettile anche le scarpette. Così vediamo. Con il fiocchetto. Sì, che belle. Viola. Li vediamo un attimo quelle di Poppy. Ops. Sono stivaletti quelle di Poppy. Sono più sportive. E noi queste sono viola con il fiocchetto. E quelle sono gli stivali. Eh sì, queste sono più eleganti. Ecco qui la nostra Sasha con il vestitino. È veramente carina. Il suffetto glitterato. E il vestitino giallo con i coricini viola. A me piace tanto. A te piace, Sasha? Sì. E Giulia? Ecco qui, abbiamo Sasha e Poppy. A me piace con i capelli glitter. Adesso l'ultima casetta. Vediamo un po'. Com'è? Oh, è vuota. Però sei stata bravissima. Adesso a dimostrazione le altre due che avevamo. Guarda un po', Giulia. Vedi un po'. Se questa è piena o vuota. Vuota. È vuota. Questa era quella di Lady. E questa è vuota. Quindi sei stata bravissima perché hai trovato le due piene. E la mamma è stata poco furba perché ha messo le prime due piene. Io non pensavo che tu scegliessi le prime due. E invece sei stata bravissima. Però la prossima volta la mamma ti fa un altro scherzetto. E vediamo se vince ancora mamma o Giulia. Questa volta ha vinto Giulia. Sì. Ti sono piaciute allora queste due nuove dress me up? Sì, sì. Sono veramente carine. E tra l'altro vi do una piccola piccola anteprima. Lo sai Giulia che tra poco 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 fanno uscire ancora altre dress me up. E lo sai chi ci sarà in queste dress me up? Una streghetta che hai conosciuto nel cartone animato. Che si chiama? Che si chiama? Ah? Agatha. Te la ricordi? Sì. L'abbiamo vista nelle puntate delle Cry Babies. Sì, ma è ancora uscita una? Eh, non è ancora uscita eppure pare che uscirà. Quindi la versione 2 delle dress me up e avrà tanti altri bellissimi personaggi. Ma noi dobbiamo ancora finire la versione 1 delle dress me up. Come facciamo? E allora dobbiamo finire tantissime 50. 50? Perché dobbiamo ancora finire queste. Che cosa? Le Gluglis fatine e pure le Gluglis. Anche le Gluglis dobbiamo finire, le Feri. Ma abbiamo troppe cose da finire. Però tra poco il tuo... Compriando. E vediamo cosa riceverai. Allora, saluta tutti, dai un bacio a tutti. E cosa... Ah, è caduta Giulia. E cosa devi dire ai nostri amici? Mettete un po' di gente. E cade ancora Giulia. Iscrivetevi al nostro... Canale. E cade ancora. Va bene amici, grazie a tutti e buon divertimento con Giulia che... Cade. Ciao.